è appena terminata la prima puntata del daytime dell'isola dei famosi dopo il riassunto della puntata di ieri sera massimiliano rosolino ha mostrato ai telespettatori il modo in cui i concorrenti dell'isola dei famosi hanno affrontato queste prime ore in honduras e c'è stato subito uno scontro tra akash kumar e drusilla gucci di fatti quest'ultima non è stata particolarmente collaborativa nel costruire la capanna dove i naufraghi vip dovranno passare le notti per tale ragione akash kumar nel suo primo confessionale non ha speso parole al miele nei confronti della ragazza asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue a dei modi che certe volte non se ne rende conto va davvero questa arroganza che mi irrita akash kumar dell'isola dei famosi ha anche affrontato drusilla gucci asserendo che dovrebbe rispondere in modo educato nel daytime di oggi dell'isola dei famosi è stato mostrato anche il confessionale di drusilla gucci e in questa occasione la candidata ad essere eliminata dall'isola dei famosi la quale ha incassato il sostegno di giacomo urtis ha subito rivelato di credere che una sua frase sia stata malinterpretata da akash kumar lui ce l'ha con me perché quando abbiamo perso la prova immunità ho detto che era un solo un gioco penso che questa frase l'abbia semplicemente interpretata nel modo sbagliato